Io non ho niente a che vedere con l'ILVA, sono dei pochi savonesi da cui famiglia neanche nell'indotto a che vedere con l'ILVA, se non un periodo in cui mio padre lavorava all'ufficio dell'igiene e faceva delle visite di idoneità ad alcuni impiegati dell'ILVA di Savona che ormai però era in fase di chiusura praticamente. Però l'ILVA me la ricordo perché io sto in Corsi Italia e sulle sirene dell'ILVA io ritmavo la mia giornata, le sirene dell'ILVA suonavano alle 10 di sera, alle 2 di pomeriggio e alle 6 di mattina, io dalle 6 sentivo suonare la sirena e me la ricordo ancora adesso, la sento nelle orecchie ancora adesso, e andava giù. E adesso che sto in Corsi Italia di nuovo mi manca tutto sommato, così come mi manca l'orologio dell'ospedale, i rintocchi dell'orologio dell'ospedale del San Paolo. Altra cosa che facevo, Trento e Trieste, nessuno sa cos'è Trento e Trieste a Savona ma credo che lo sappiano tutti, è quella salita che va dietro la piscina, la prima piscina coperta di Savona è stata quella, lì in fondo a Trento e Trieste c'è ancora la terrazzina dove in genere noi andavamo con le ragazzine una volta a fare cose che si facevano con le ragazzine che non si fanno più, adesso non è più di moda, ma una volta si faceva. e da quel terrazzo lì c'era la cosiddetta pera, noi la chiamavamo la pera, era una pera di piombo che pesava delle tonnellate enorme che veniva alzata e veniva poi abbattuta pesantemente in un, come posso dire, in un recipiente dove c'era della ferraglia che veniva sminuzzata per poi portarla all'alto forno e fare la colata di acciaio perché tutto sommato, credo che l'abbiano detto con maggiore autorevolezza di me sia gli storici che i politici, l'alto forno di Savona era un alto forno di refrattari, non era, non faceva l'acciaio vero e proprio, usava pezzi di ricambio e cose di questo genere, e però venivano sminuzzati in questo grossissimo recipiente per cui tra, cosa posso dire, diciamo una carezza per dire cose che si possono dire, una carezza e l'altra, la ragazza o dei discorsi con questa ragazza, ogni tanto si dava anche un'occhiata a questa pera enorme che saliva su d'acciaio e poi bomba pesantemente cadeva, quando si direte a dire che a Savona negli anni 60-70 il mare era pulito, l'aria era pulita, era poco inquinata, sono balle clamorose, Savona è stata una delle città più inquinate d'Italia dal 1902 al 1970, adesso purtroppo che non ci sono più industrie, che la città è diventata un terziario, come fosse terziario, forse neanche, di commercianti e commerciale, può vantare di avere il mare pulito, può vantare di avere, finalmente di aver recuperato il mare, ma a quei tempi, proprio per colpa dell'ILVA, per colpa di altre fabbriche sul mare, Savona non era una città di mare, non è mai stata una città di mare, comincia ad esserla adesso purtroppo, le prime bombe a Savona sono scoppiate nel 1974, io mi ricordo la psicosi collettiva della città, me la ricordo perfettamente, mi ricordo questa psicosi collettiva, non saprei dire, anche se anch'io ho dei sospetti su chi sia il colpevole, sul perché siano state messe queste bombe, non credo assolutamente alla vulgata della città medaglia d'oro della resistenza, che ha spaventato i fascisti che hanno messo le bombe, perché non credo neanche fossero fascisti, o quantomeno erano corpi suoi sparati dello Stato, ovviamente di tendenza di destra, ma non fascisti come pensavano certi Savonesi, a quella retorica non credo, sta di fatto che ho partecipato alle ronde anch'io, ho fatto le ronde al liceo Calasanzio di Carchero, perché siamo arrivati a farle anche lì, gli studenti avevano deciso di fare le ronde, ho partecipato una notte a questa ronda, con un freddo della Madonna, con una nebbia che faceva spavento, io e il professor Cirio che era l'altro che faceva le ronde con me, abbiamo approfittato del fatto per bere parecchia grappa, ero convinto che si dovesse rispondere a questi atti, ecco, ero convinto che si dovesse rispondere a questa vigliaccheria di gente che colpiva senza nome e cognome, senza farsi vedere, con una risposta civile e democratica, su questo ci ho sempre creduto e l'ho fatto per questo, pare che fossero 12 le bombe che sono scoppiate. Una è scoppiata vicino a casa mia e mio figlio e mia moglie l'hanno sentita scoppiare vicinissimo perché stavano scendendo da via Montegrappe e le è scoppiate in via Montegrappe. Io personalmente mi ricordo la prima, quella che è adesso il palazzo della provincia, Palazzo Nervi, questa me la ricordo perfettamente, ero a casa di mia madre in Corso Italia, ho sentito l'esplosione e come al solito io l'ho messa a ridere, io la mettevo sempre in ridere, però in effetti avevo paura, quando c'è stata la seconda o la terza bomba ho cominciato ad avere paura, quindi la psicosi collettiva io l'ho vissuta, però non ho mai razionalizzato e non mi sono mai chiesto chi sono stati gli autori delle bombe, sapevo perfettamente che io potevo contribuire ma non ero certamente io quello che con il mio contributo potevo fare cessare le bombe, sapevo che c'era qualcuno che le metteva e qualcuno che le aveva fatte cessare e questo è successo. A Savona mi ricordo il corteo, mi ricordo la larghissima partecipazione di Folla, mi ricordo anche certi episodi di cretinismo totale, è vero che le ronde fermavano le persone per delle stupidaggini, anche delle stupidaggini, è vero che molte persone si sentivano molto coscienti, molto compresi di se stessi e del loro ruolo, quindi si sentivano veramente poliziotti, una polizia parallela, una polizia parallela che cercava di collaborare però, attenzione, perché la polizia in genere nasce parallela contro la polizia, in questo caso c'era molta collaborazione, certamente quando Savona era un porto ed era un porto dove si caricava e si scaricava merci, mi piaceva di più, perché lì si lavorava, e citerò mia zia in questo caso, mia zia ha lavorato al porto per tutta la vita, era sorella di mio padre, e quando io dicevo, quando gli raccontavo, andavo a casa a trovarla ultimamente, ma avevo un ictus, e gli raccontavo che era andato al porto, lei mi diceva, lì una volta dove si travaggiava, e faceva proprio una distinzione enorme tra la Savona Cocainomane della Darsena di adesso, e la Savona dove si lavorava, al porto, lì dove adesso ci sono i pescatori davanti al Cue de Boe, all'austeria del Cue de Boe, una volta c'erano le navi, sbarcavano proprio le navi lì, e mia zia trovava spessissimo di mattina, questo non c'entra niente come lì, però fa parte dell'entourage, trovava spessissimo di mattina, si scandalizzava da matti, i marinai svedesi, ubriachi, fradici nel vomito, che non erano riusciti neanche a raggiungere la nave, che era proprio lì, e per lei questo era comunque meglio, era un lavoro, perché comunque il marinaio era espressione, lo svedese, ubriaco, fradicio, di verbut, tra l'altro, bevono il verbut, è sempre in chiaro, alla mattina presto bevono il verbut perché era più leggero, secondo loro, del vino, alla sera erano ubriachi fradici di vodka, va bene. Allora, quest'idea qui del porto come lavoro, contrapposto al porto come divertimento, quindi come un fatto negativo di mia zia, ce l'ho anch'io fondamentalmente, e quindi io non vedo un avvenire persona, ma d'altra parte non mi interessa perché ho 65 anni e penso a mangiare, a bere e a dormire per quello che posso, la mia vita è finita così, finisce con un enorme pessimismo nei confronti di me stesso, dell'uomo e di Savone.